Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Covid verso DPCM con stop a gite scolastiche e limiti alla Movida, feste in casa, raccomandate massimo sei persone con le mascherine, stop alle feste private con una forte raccomandazione a limitare anche quelle in casa se partecipano più di sei persone. Rimane inoltre la richiesta dell'esecutivo di una sospensione delle attività sportive per gli sport di contatto come il calcetto o il basket a livello amatoriale ma a consentirli a livello dilettantistico per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi. Sempre sul coronavirus ieri ci sono stati 4.619 nuovi casi con 85.442 tamponi, ricoverate 302 persone in più più 32 in terapia intensiva, morti 39 malati. Il crollo dei tamponi addirittura 38.500 in meno rispetto a sabato porta la curva a piegarsi ma resta alto il rapporto tra nuovi positivi e tamponi, nuovi positivi raddoppiati rispetto al lunedì scorso e aumenta la pressione scusatemi sugli ospedali. La Lombardia resta la regione con il maggior incremento di casi con 696. La campagna stabile da due giorni ne registra 662 seguita da Toscana con 466 e Piemonte con 454. Coronavirus Francia 8.509 casi e 96 morti. A Parigi è occupato il 50% dei letti in terapia intensiva. In tutto l'Ile de France il 17% dei test è positivo al Covid-19. In arrivo una nuova versione dell'applicazione per il tracciamento, equivalente di immuni. Ipotesi coprifuoco a Parigi. Preoccupazione per Macron, ha incontrato il presidente della Polinesia francese. Risultato positivo. Vaccino anti-Covid di Lorenzo dell'IRBM, dice, se non ci saranno in toppi 3 milioni di dosi. Per Natale, da qui a un mese circa, la sperimentazione di fase 3 sarà finita e a quel punto si tratterà dei tempi dell'Agenzia Europea del Farmaco, che ha cominciato a revisionare i dati a inizio mese, in modo da comprimere i tempi e decidere sulla approvazione. Finte cure contro il Covid-19, 60 siti oscurati, sequestrati un milione di mascherine e 45.000 gel in ass nell'ambito della campagna estate tranquilla, hanno svolto una campagna di controllo lungo tutta l'estate, da inizio giugno a fine settembre. Oltre 14.200 le ispezioni effettuate dalle RSA ai ristoranti. È morto Enzo Totti, il padre di Francesco. Aveva 76 anni, era positivo al Covid e ricoverato allo Spallanzani. Il padre dello storico numero 10, capitano giallorosso, non è riuscito a riprendersi dalla malattia, anche a causa di un infarto che lo colpì qualche anno fa, quando il figlio indossava ancora la maglia romanista. Notizie da Napoli e dalla Campania. Bollettino coronavirus in Campania, numeri positivi del 12 ottobre. Sono 662 nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Campania, affronto di 7.405 tamponi analizzati. Questi i numeri principali del bollettino diffuso dall'Unità di Crisi Regionale, sulla base dei dati aggiornati alle 23.59 di domenica 11 ottobre. Immigrati in fuga dal centro di accoglienza sono positivi al Covid-19. Una ventina di immigrati, ospiti di un centro di accoglienza di Terzigno, hanno rifiutato di osservare la quarantena. In quattro si sono allontanati dalla struttura per dirigersi verso le città confinanti, che sono Bosco Trecase, Bosco Reale e Torria Annunziata. Comune dei Napoli, De Magistris ha scelto Alessandra Clemente, la nostra candidata, ha detto. Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha sciolto la riserva. Sarà Alessandra Clemente, la candidata di Dema, a prendere lo scranno che l'ex magistrato lascerà libero nel 2021. Già durante la campagna elettorale per le regionali, diverse voci si erano rincorse sulle possibili alleanze. Focolaio al matrimonio a Monte di Procida. Ci sono altri 30 casi. Arriva una nuova ordinanza. Ci sono aggiornamenti sul focolaio innescattosi durante il ricevimento per un matrimonio a Monte di Procida. Affornirli al sindaco Peppe Pugliese durante una diretta Facebook in cui svela che ora il totale di positivi nella cittadina Flegrea è salito a 62. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Covid da scuola a Gorizia massima attenzione alle superiori. Ziberna ha detto i contagi quasi tutti i ragazzi di fuori città sono aumentati in questi ultimi giorni con intere classi in quarantena. Stiamo assistendo a un nuovo aumento dei contagi in tutto il mondo anche se i dati che ci vengono forniti quotidianamente dai media in Italia rispetto ai primi mesi di ricoveri ospedalieri, terapie intensive e morti sono altrettamente inferiori mentre aumentano gli asintomatici e commenta così il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna che dice così anche nella nostra regione anche se ci si sta attrezzando per un possibile peggioramento della situazione. Non è il momento di battaglie dice fra negazionisti e catastrofisti è il momento della ragione, del buonsenso e dell'unità di intenti. Covid nelle scuole di Gonarse 18 in quarantena. Il sindaco Ivan Diego Boemo invita tutti alla massima prudenza e al rispetto delle normative per il contenimento della pandemia. Il Covid-19 è arrivato anche nelle scuole di Gonarse quindi a darne notizia il sindaco Ivan Diego Boemo in un post pubblicato su Facebook ieri sera 12 ottobre. Problemi nella fornitura idrica. La regione chiama idrogea, proponga in tempi rapidi soluzioni sostenibili e condivise con i sindaci per fornire acqua potabile ai comuni della Pede Montana. Nell'attesa della definizione di interventi di miglioramento dei sistemi, appunto dei sistemi di approvvigionamento idrico in Val d'Arzino. È fondamentale che idrogea proponga in tempi rapidi soluzioni sostenibili e condivise con i sindaci per fornire acqua potabile ai comuni del Friuli occidentale, nei quali si riscontrano gravi problemi di approvvigionamento idrico in seguito ai danni causati dal maltempo di fine agosto. Fermato per la droga nel telefono a 2000 file pedopornografici. Nei guai un 26enne afgano richiedente asilo arrestato dalla Polizia di Stato di Pordenone. Sabato 10 ottobre una pattuglia della squadra volante della questura di Pordenone ha notato in Viale Martelli un giovane che alla vista degli agenti è salito in bici allontanandosi precipitosamente. Ai poliziotti non è sfuggito che mentre si dileguava il ragazzo aveva gettato a terra un bilancino digitale di precisione. È stato inseguito, lo hanno bloccato poco più avanti. Sottoposto a controllo aveva con sé 7,5 grammi di hashish e numerose banconote da 5 euro verosimilmente provento di spaccio. Cari amici con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.